Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sulla TV dei numeri Io sono Drake e vi auguro una buona visione Ragazzi, oggi è stata rilasciata una nuova leggendaria La carta leggendaria Cimitero E quindi, potevo non portarvi un chest opening ragazzi? Secondo voi, sinceramente, potevo davvero lasciarvi senza un chest opening? Ovviamente no! E quindi, ho questi bauli pronti per essere aperti In realtà c'è un baule magico che dovrei aspettare 8 ore Ma ho le gemme sufficienti per aprirlo subito Ho un baule gigante questa volta anziché un baule magico Spero che mi perdoniate, sì? Ebbene ragazzi, visto che mi avreste perdonato Andrò comunque a scioppare anche un altro baule magico Siamo alla ricerca della carta leggendaria Cimitero Ma anche il Drago Infernale ci piace E il tronco, che adesso sta diventando la carta più usata di tutte Ma vabbè, iniziamo ragazzi, iniziamo subito col baule gigante Forza a trovare la leggendaria qua sarebbe epico Allora, 1593 d'oro non è male Ok, una epica, non c'è la leggendaria Poi troviamo il golem di ghiaccio Che adesso si trova in tutti i bauli, quelli giganti E poi gli arcieri Va benissimo così Ok ragazzi, direi di iniziare ad aprire un baule magico Magico Andiamo ad aprire ecco un baule magico dallo shop Baule magico Arena 9 Apriamolo subito con 800 gemme Allora, 714 d'oro è buono ragazzi Però mi ricordo che per i leggendari serve meno oro 8 scariche, vabbè 4 razzi Li sto usando paradossalmente adesso Quindi non mi fanno proprio schifo 4 torri infernali Me li dai a rate un'altra volta come l'altro c'è stopening E che cazzo, non c'è neanche qua la leggendaria mi sa No, devono usci un sacco di comuni Adesso le epiche Vabbè ragazzi, 4 specchi Carta, va bene, non mi esprimo Ok ragazzi, direi di proseguire quindi Apriamoci quest'altro baule magico ragazzi Subito, non perdiamoci in chiacchiere Voglio, io voglio Oh, 661 d'oro ragazzi Dai, voglio questo cimitero Voglio il cimitero 11 tesla, male 21 cavalieri 6 capanne Dai, dammi subito tutte le carte No Ragazzi, non c'è neanche qui la leggendaria purtroppo 3 cuccioli di drago Va bene ragazzi Abbiamo altri 2 bauli Una leggendaria ovviamente è garantita Perché ho il baule leggendario Ma comunque Andiamo ad aprire l'altro baule magico ragazzi Vi prego Drago infernale o cimitero Allora, 606 d'oro 2 capanne goblin Ma solo 2 ragazzi Non va bene però solo 2 Dai, solo 2 Ancora 14 tesla Prima quant'era? 11 Ma mi prende per il culo il gioco? No, dimmelo adesso Se mi prendi in giro Che mi dai tutte queste carte piccole Altri comuni ancora Nooo, ragazzi 12 in 3 moschettieri Neanche qui c'è la leggendaria Il bauler Va bene Ragazzi Ci rimane il nostro ultimo baule Il baule leggendario Ti prego Fa che qua c'è il drago infernale Oppure il cimitero Forza Ma stai un'altra Ma stai un amico Nooo Che colpa il cuore Ragazzi Che colpa il cuore Avevo speso pure 800 gemme Anzi 850 Non abbiamo trovato il cimitero Ragazzi però vi dico una cosa Ho 66509 Monete d'oro Io comprerò il cimitero Nello shop Con 40.000 monete d'oro Appena mi esce Tanto c'ho 3500 coppe Non retrocederò di sicuro E ci farò un bel video In cui lo andiamo a usare E lo andiamo a usare soprattutto Per spaccare i culi A tutti gli altri giocatori Lo useremo per una Road Tu 4.000 coppe Ecco Intanto ragazzi Scusate la mia ignoranza Ma mi viene da fare così Quando ci sono i chest opening Comunque Ragazzi È il momento di salutarci Purtroppo Dispiace anche a me Non vi preoccupate Però Se il video ti è piaciuto Io ti sorta a lasciare un like E iscriviti al canale Se ancora non l'hai fatto Perché per me è importante Rimanete sintonizzati Perché ne vedremo delle belle Ciao ragazzi La prossima volta Cazzo lo compriamo Il cimitero E dopo sì che lo usiamo